la chirurgia della spalla soprattutto quella traumatica è una sfida per noi ortopedici ma non solo per noi ortopedici per i nostri colleghi fisiatri e i nostri colleghi fisioterapisti l'80% delle fratture in particolar modo della spalla in particolar modo dell'omero prossimale viene trattato in maniera conservativa mentre il 20% ha un'indicazione chirurgica ma parliamo di una patologia in netto aumento per cui è una sfida per noi cercare di dare le soluzioni migliori oggi abbiamo dei progressi importanti sia in ambito di sintesi sia in ambito di protesica quindi abbiamo degli strumenti dei device delle tecniche chirurgiche anestesiologiche che ci permettono di dare la miglior soluzione a ciascun paziente questo però deve prevedere una selezione attenta di quello che è una valutazione di quella che è la tipologia del paziente il pattern di frattura ma soprattutto quella che sono le aspettative e le esigenze funzionali dei nostri pazienti per calzare a pennello il trattamento migliore personificarlo a ciascuno dei nostri pazienti inoltre quello che è doveroso oggi fare è quello di standardizzare le nostre indicazioni le nostre tecniche chirurgiche le nostre tecniche riabilitative e il rapporto comunicativo che ci deve essere fra medico chirurgo fisiatra paziente e fisioterapista deve essere un rapporto confidenziale come una squadra come un team che gioca la stessa partita per cercare di raggiungere insieme una vittoria finale che è quella della soddisfazione dei nostri pazienti che è quello che ci dà la maggiore soddisfazione come professionisti sanitari in questo settore così difficile